Siamo allo stand dell'Orma Editore ed è con noi Natasha Wodin, benvenuta a Più Libri Più Liberi. Ha scritto il libro, veniva da Mariupol e ce lo facciamo raccontare da lei, soprattutto l'urgenza di raccontare questa storia e il bisogno di scavare nella sua memoria. Ho cercato per tanti anni mia madre e nonostante non riuscissi a trovarla la necessità di cercarla è rimasta nei decenni. È strano non avere una madre, mia madre è morta quando avevo dieci anni e ormai a settanta avevo dato per perduta la possibilità di trovarla. Invece poi un giorno ho trovato un riferimento a lei in internet e da lì è arrivata una cascata di informazioni che mi ha raccontato per la prima volta a settant'anni da dove venivo e chi ero. Visto che è la prima volta di Natasha Wodin a Roma con un suo libro, le chiediamo che cosa si prova a trovarsi di fronte ai lettori che magari sono anche curiosi di saperne qualcosa in più. Sono molto felice di essere qui, sono già stata a Roma tanto tanto tempo fa e adesso tornandoci sono accorta che Roma è ancora più bella che nei miei sogni più sprenati. Il fatto che sia uscita la traduzione italiana mi ha reso felice e mi ha sorpreso, infatti sono molto curiosa di sapere cosa troveranno i lettori italiani in un libro come questo, in un tema come questo. Da Più Libri, Più Libere 2018 Natasha Wodin veniva da Mariupol per scoprire come un social network in fondo può cambiarti la vita. Grazie mille Natasha. Grazie a lei.